La vocazione della vostra vita e del vostro lavoro è gioia. Con queste parole Papa Francesco ha accolto in Vaticano i membri dell'Associazione Esercenti dello Spettacolo Viaggiante. Pur riconoscendo le non poche difficoltà di una vita itinerante, il Pontefice ha incoraggiato tutti a proseguire nel solco di questa lunga tradizione, promuovendo l'incontro e il desiderio di conoscersi e rendendosi messaggeri della gioia che piace a Dio e che viene da Lui. La vostra è una bellezza artigianale, diversa da quella prodotta dalle grandi potenze del divertimento, che risulta un po' assettica, direi poco umana. Mi è piaciuto quello di liberare un po' di tempo dal telefonino, è stato bello. Vi confesso che io preferisco la vostra, che profuma maggiormente di stupore e di incanto, e che però è frutto di ore e ore di duro lavoro. Una giostra non finisce di meravigliare, c'era una gioia dolce nei piccoli e nei grandi. Anche i grandi ritrovano la gioia dell'infanzia lì, diventano un po' bambini e crescono con questo, tornare alle radici delle memorie dell'infanzia. Grazie. 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 Grazie.